Siamo ormai entrati nel vivo della Settimana Santa, la settimana delle settimane, il periodo liturgico più importante per la vita di ogni cristiano. E allora si parte domani, mercoledì santo, 12 aprile, con la messa Crismale alle ore 19 in Cattedrale ad Andria. Santa Messa che sarà trasmessa in diretta su Teledeon, canale 18, in HD sul canale 518 e in live streaming sul sito teledeon.it. Ma non solo, e allora andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli altri appuntamenti della Settimana Santa nella diocesi di Andria in diretta su Teledeon dalla Cattedrale. Marilena Pastore. Riti della Settimana Santa, immagini commoventi di processione, preghiere, poi riti laici, quelli delle tavole e dei negozi. Ma mi chiedo quali sono i riti della Pasqua? Sono veramente quelli che si svolgono nelle chiese? Sono quelli laici che si svolgono per le strade? No, i riti della Pasqua sono quelli che facciamo noi quando uscendo dalle nostre chiese ci ritroviamo con le mani tese a stringere altre mani, con i cuori aperti ad accogliere altri cuori nel perdono, senza condizioni, nell'amore, nella generosità senza misura e nel dono assoluto e irreversibile di noi stessi e agli altri. Aver partecipato ai riti in chiese e poi restare muti, rigidi, paralitici di fronte al mondo che chiede di vedere ben altro significa aver recitato solo la commedia della Pasqua. Il Vescovo di Andria, Monsignor Luigi Manzi, ci ricorda con queste sue parole il senso e il valore della Settimana Santa che appena è iniziata. Dopo il 9 aprile, Domenica delle Palme della Passione del Signore che ha segnato ufficialmente l'ingresso nella Settimana Santa, come da tradizione nella Diocesi di Andria, si entra nel vivo di questa settimana. L'appuntamento è per domani, mercoledì santo, 12 aprile alle ore 19 con la celebrazione della Messa del Crisma, anziché il giovedì santo come invece accade nelle altre diocesi. Il Vescovo presiderà la celebrazione della Santa Messa Crismale con i presbiteri diocesani e religiosi, quindi i giorni del triduo pasquale. Giovedì santo, 13 aprile alle ore 9, il Vescovo presiderà la celebrazione della liturgia delle ore con i canonici del Capitolo Cattedrale e la Comunità. Alle ore 19 la Santa Messa nella Cena del Signore. Il Vescovo presiderà la concelebrazione della Cena Domini e farà la lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione avrà luogo la traslazione del Santissimo Sacramento nella Cappella della Reposizione. Venerdì santo, 14 aprile alle ore 9, il Vescovo presiderà la celebrazione della liturgia delle ore, alle 17 la celebrazione della Passione. Il Vescovo presiderà la liturgia della Parola, l'adorazione della Croce, il rito della Comunione. Alle 19.30 la processione dei misteri, a partire dalla Chiesa Annunziata per giungere poi in Piazza Catuma. Sabato santo, 15 aprile alle ore 9, il Vescovo presiderà la celebrazione della liturgia delle ore e alle ore 21 la veglia pasquale amministrerà i sacramenti della iniziazione cristiana a tre adulti catecumeni. Domenica 16 aprile, Pasqua della Resurrezione. Alle 11.30 il Vescovo presiderà la Santa Messa di Pasqua. Le celebrazioni della Messa Crismale, del Triduo Santo e la veglia pasquale saranno trasmesse in diretta su Teledeon, canale 18 del Digitale Terrestre, in HD sul canale 518 e in live streaming sul sito teledeon.it.